MISSIONE Fingere più cose possibili senza mai dimenticare niente Una prova di fake e di memoria Andiamo, andiamo Iniziamo con Fatima Trotta Vieni Fatima Eccola qua la nostra Fatima Vieni, vieni, vieni Eccola qua Fatima Trotta Memoria Memoria e tanta, tanta capacità di improvvisare Va bene, va bene Di mimare, di fingere, di richiedare rumori in molte situazioni Allora io ti chiederò di interpretare una situazione Sì Poi un'altra, ma ogni volta la dovrai ripartire sempre dalla prima Ok, suggerite Creiamo l'atmosfera, inizi facendo i gargarismi Ma qua così, adesso I gargarismi, vai, provo a faricare come gli sbagli Beh, questo è il finale, bravo Perché lei viene veramente dalla scuola di Eduardo, la verità Allora Fingi di essere l'arrotino Attenti perché questa settimana sarò più severo No Se uno sbaglia lo rimando a posto, ok? Allora, gargarismi e poi l'arrotino, vai Donne, è arrivato l'arrotino L'arrotino è l'ombrellaio Allora, fingi di essere una scimmia Oh Oh Donne, è arrivato l'arrotino Oh Oh Fingi di essere un cantante lirico Una cantante lirico, vai Ah Puh Donne, è arrivato l'arrotino Oh Mio bambino caro Ehi la, ehi la Fingi di essere Gollum Ricorda dove parti Ricorda dove parti Ah Tu Donne, è arrivato l'arrotino Oh Mio bambino caro Il mio tesoro Bravissima Attenta Sempre più difficile Fingi di essere Gollum Che fa l'arrotino Ah Tu Donne, è arrivato l'arrotino Oh Mio bambino caro Il mio tesoro Donne, è arrivato Il mio tesoro Attenzione Saper fare l'amplen L'ultima Fa tutto come se fossi una tedesca Ma che è che no? Dall'inizio Chi ha rischi tedeschi? Puh 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 Anche scena Anche scena Anche scena Oh Oddio Sei incastrata Grazie Brava 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 Bell'ultima Bravissima Fate un applauso Viva 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 Quanta tristezza Che cosa? Ha sbagliato? Ha sbagliato? Eh ma non dovevi chiamarla Eh certo non dovevo chiamarla Le fattigliamja fech, ti fai No 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 Vieni 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 qua Ma come non l'hai chiesta Maurizio? Perché non ha memoria? E la cataratta Maestro Maestro Casagrande Sotto vignare ha detto è la cataratta è la cataratta non ce la faccio più, non ne voglio andare è la cataratta se sei un artista c'è il maestro che ti guarda poi sia severo maestro se sbagli ti rimando a posto come ho fatto con Fatima ripartiamo nessuna rimando a posto è quasi un favore se vuoi ti suggerisco no 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 diamo un po' di pathos, un po' di portos, un po' di aramissa allora attenzione, fingi di essere un gatto in amore bravo 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 scusami è serio che nel cortile del secondo me ma non pongo, che gatto è sta roba questo è il gatto con figli, famoso gatto con figli allora ragazzi non diamo limiti all'arte prego non interrompete, ripartiamo da gatto in amore ma dovrei fare prima dovrei farmi, anzi dovrei fare prima il gatto in amore poi fingere di essere un rapper vai, riparti il gatto in amore e poi il rapper vai roma mia io fingi di essere Tarzan mia io Sfingi di essere un fantasma! Sfingi di essere un ventilo! Sfingi di essere garo con me! Mh... Torno apposta, Giacome! Ben tornati! Allora Gianluca, guardalo, Gianluca c'è a chissimi gaffa, chissimi una poppa, non mi ha detto. Vieni per centro, sei qua. Pronti, ripartiamo. Ehm, concentrato, pronto? Fingi di esserno zombie affamato. Te lo fa vedere a chi ha, vai. Allora, fingi di chiuderti le dita dentro la porta. Fingi di essere un chihuahua arrabbiato. Fingi di essere un operatore di call center. Pronto? Sì, lo voglio solamente farmi di questa promozione. Fingi di tuffarti dal trampolino. Fingi di tuffarti dal trampolino. Fingi di essere un pilota d'aereo che fa un annuncio, riparti dall'inizio. Non ce la fa, per me non ce la fa. Pronto? Voglio solo parlare di questa promozione. Fingi di essere un pilota d'aereo che fa un annuncio. Un pilota d'aereo che fa l'annuncio. Signore, signore, stiamo precipitando. Fai tutto come fossi in giovanotti. Se ti ricordi tutto non ti aiuti, è un plan. Vai. Yo, yo, yo. Ciao, ragazzi, siete pronti? Soltano i ragazzi con le mani. Tutti insieme. Oh, yo, yo. Yo, yo. Ah! Ah! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Che mi fai? Che mi fai? Che mi fai? Va avanti, bravo. Va avanti. Bravissimi tutti.